Benvenuto in questo virtual tour, io sono Angelo Camilleri Addis, mister affitti Brianza e ti porto in visita in un immobile presentato dal manager dell'affitto Giuseppe Di Napoli. Ci troviamo a Brugherio in zona Edil Nord in un bilocale arredato. Ingresso su Atrio che conduce al soggiorno con cucina vista. Le due zone sono ben separate attraverso un bancone. Cucina con piastra induzione. L'appartamento si presenta come mansardato alto con travi a vista in legno che rendono questo appartamento molto particolare. Zona lavanderia e antibagno che conduce al bagno di servizio con sanitari. Secondo disimpegno. Bagno padronale con ampia doccia. Cabina armadio e camera da letto. Per tutti i dettagli su questo immobile visita il sito www.linviate.soloaffitti.it Per la cultura dell'affitto visita il blog www.misteraffittibrianza.com Solo affitti. Affittare con sicurezza.